mini mini molto mini video dove vi voglio far vedere questi questi sono uno dei tanti paia di orecchini che io ho innumerevoli orecchini che ho questi vi furono regalati e a confezionarli fu una mia moderatrice roberta perché ve li faccio vedere lei oggi ha praticamente pubblicato un video dove spiega come è arrivata a confezionare questi orecchini ad avere il coraggio di denderli di pubblicizzarli di aprire un canale mentre li costruisce e allora io ho detto oggi mi va proprio di indossare i suoi orecchini ne ho tanti altri questi vi sono stati commissionati da un'altra mia amica e stati fatti da lei che non indossa ancora perché sono c'è solo di colore estivi insomma colori estivi e li metterò già in primavera però li tengo qui a portata di mano perché a voi ha proprio appunto li voglio indossare al momento inverno uso questi neri allora qui sotto nell'infobox vi linko il suo video e vi invito a dare un'occhiata alle sue creazioni sono proprio belli a volte mi dite no pure su instagram per lo più non su youtube anche perché sto pubblicando meno reggina ma dove li prendi sti orecchini ma dove li prendi io io prendo sempre per la maggior parte se non sono perline e per esempio cerchi di questo genere prendo cerco sempre di prendere pezzi unici come le felpe che indossono cerco sempre di prendere le cose originali così sono anche per gli orecchini e cosa c'è di più originale di questi pezzi confezionati sotto nell'info box di linko il video di roberta andatelo a guardare condividete anche perché non parla di orecchini non è quello che mi ha fatto emozionare ma il perché è arrivato a quello mi raccomando un bacio buona giornata e non lo so quando ci rivedremo forse stasera con una live vedremo un bacio